Gianluca ci chiede, ma se uno va in Spagna per il rituale e poi torna in Italia, non è poco utile? Non trova comunque terreno fertile per poter applicare ciò che ha scoperto? E' Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video, una bellissima domanda, sicché sentiti libero libera di diffondere e condividere, perché è giusto che sempre più persone possano vivere in gioia e pace, serenità, armonia? Allora, ti faccio una domanda. Se una persona va al ristorante, quando torna a casa sua, la panza ce l'ha piena o ce l'ha vuota? Ce l'ha piena la panza. La stessa cosa accade con il cerimoniale, quindi quando partecipi a un cerimoniale, quando partecipa, la domanda che ci ha fatto Gianluca è riferito al cerimoniale di The Answer che in questo contesto specifico verrà tenuto in Spagna. E quindi la domanda è, ma se io vengo in Spagna a praticare questo cerimoniale? Hello, how are you? Are you good? Yeah, say hello. Hello! Ma se io vengo a praticare il cerimoniale in Spagna, poi me ne torno in Italia, quindi vengo, faccio The Answer, trovo delle risposte, quando torno a casa, come butta? Allora, quindi questo è l'aspetto, ti ho fatto un parallelismo, il parallelismo è se tu vai al ristorante, cosa succede? Torni a casa con la panza piena, ok? La stessa cosa succede, una volta che tu ricevi le risposte, le risposte ce le hai, le sai. Quello che accadrà è che poi è possibile, è possibile, che ti arrivino delle risposte in cui, nel caso in cui tu sia in uno stato di sofferenza, determinate condizioni di vita non ti piacciono e quindi dovrai fare qualche cosa al riguardo, dovrai cambiare determinate cose, magari sarà opportuno per te cambiare le persone che frequenti, il luogo in cui vivi, il lavoro che stai svolgendo, tante cose possono succedere e a fronte di questo vorrai decidere, perché? Perché comunque sei la media delle persone con cui vivi. Hello, how are you? Sei la media delle persone con cui vivi qua, sono arrivati i briganti, quindi adesso ti saluto e via. Quindi l'importante sono le persone di cui ti circondi, quindi circondati sempre di persone meravigliose, magistrali, eccetera, altrimenti la qualità della tua vita, a prescindere dalle intenzioni che hai, rimane influenzata dalla maggior parte delle persone. Così noi ti salutiamo, bye bye, condividi, mi auguro Gianluca di aver risposto alla tua domanda. Bye bye, 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 bye. Bye bye, bye. Bye. Bye bye. Bye bye.